Buonassi, buonassi! Abbiamo penetrato la corazza, bel colpo! Non lo abbiamo evocato, corazzato nemico danneggiato! Centrato! L'abbiamo preso! Centrato! Bel colpo! Centrato! Preso! Bel colpo! Li abbiamo danneggiati! Colpo critico! Non abbiamo penetrato la corazza! Non abbiamo penetrato la corazza! Corazzato nemico danneggiato! L'abbiamo preso! Centrato! Carro nemico distrutto! L'abbiamo preso! Centrato! Corazzato nemico danneggiato! Peccato! Peccato! Li abbiamo danneggiati! Centrato! 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 Siamo dalleggiati! Preso! Ancheggiato! Corazzato nemico danneggiato! Cettiamo l'alto bersaglio! Centrato! Carro nemico distrutto! L'abbiamo preso! Centrato! Li abbiamo danneggiati! Peccato! Non ci существuava. Puoi sentire aippa! Puoi sentire a racconto nella comunità di stare stato con rifiore! Testare a poss circa 150 km di ruedità i suoi metodi. Prendo andare in suario! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi abbiamo danneggiato. Corazzato nemico danneggiato. Vi abbiamo danneggiato. Bel colpo. Il motore è stato colpito. Preso. Il motore è stato colpito. 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 Il motore è stato colpito.